Il ruolo dei privati nel mercato del lavoro è stato oggetto di una lunga elaborazione concettuale, prima e legislativa poi. Nell'immediato dopo guerra, infatti, la legge sul collocamento pubblico obbligatorio aveva escluso la legittimità di qualsiasi intervento degli operatori e dei mediatori privati nel mercato del lavoro. C'era il diffuso convincimento che l'affidamento a privati di una funzione pubblica, come era ritenuta quella di mediazione in materia di lavoro, fosse pericolosa e esponesse il mercato a dei rischi di abusi e a fenomeni patologici. L'esperienza dei decenni successivi ha mostrato che in realtà il collocamento pubblico obbligatorio non riusciva a svolgere perfettamente questa funzione e soprattutto ha dimostrato, grazie alle esperienze degli altri paesi europei, e non solo, che i privati potevano svolgere correttamente questo ruolo in quanto la funzione poteva restare pubblica ma poteva essere affidata, secondo uno schema in voga da decenni in molti paesi, a soggetti privati preventivamente selezionati dall'autorità pubblica. Sulla base di questo concetto, nel 1997 nel nostro paese è stato completamente legittimato il ruolo imprenditoriale del mercato del lavoro mediante, da un lato, l'introduzione della legge sul lavoro interinale e dall'altro mediante l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di mediazione da parte delle imprese e delle agenzie per il lavoro costituite da operatori privati. Successivamente la legislazione ha ampliato queste prime aperture, in particolare la legge Biagi nel 2003 ha rivisitato l'assetto dei compiti e funzioni delle agenzie per il lavoro e oggi questi soggetti che appunto prendono il nome di agenzie per il lavoro possono svolgere fondamentalmente cinque tipi di attività. Possono svolgere l'attività di somministrazione a tempo determinato, possono erogare servizi di somministrazione a tempo indeterminato, noti anche come staff leasing, possono occuparsi di intermediazione di mano d'opera che significa incontro tra domanda e offerta di lavoro. Possono poi svolgere ricerca e selezione del personale che è una forma particolare di intermediazione che viene svolta sulla base di un incarico di un committente e infine possono erogare servizi di supporto alla ricollogazione professionale conosciuti anche come il cosiddetto outplacement. Oltre a questo pacchetto di compiti e funzioni gli operatori privati possono anche collaborare con le strutture pubbliche. Il concetto di collaborazione è insito già nelle riforme del 1997, è stato valorizzato dalla legge Biagi e è ulteriormente rilanciato dal decreto 150 del 2015. Gli operatori privati possono diventare partner della pubblica amministrazione ai vari livelli in cui vengono erogati i servizi per il lavoro, la porta di accesso a questa collaborazione è l'accreditamento. Possono cioè lavorare con le strutture pubbliche solo i soggetti che sono stati preventivamente accreditati, cioè riconosciuti, legittimati a svolgere questo compito. I sistemi di accreditamento oggi esistenti sono due. C'è un sistema gestito, disciplinato e avviato dall'AMPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che rilascia un accreditamento valido su tutto il territorio nazionale e c'è poi un sistema che si fonda sugli accreditamenti regionali. Per ogni singolo territorio le regioni possono costituire e gestire elenchi di soggetti accreditati a derogare servizi per il lavoro. I due sistemi sono concorrenti, l'uno non esclude l'altro, il conseguimento dell'accreditamento nell'uno è condizione sufficiente per erogare servizi per il lavoro senza necessità di ottenere l'accreditamento anche nell'altro sistema. La differenza tra l'accreditamento e l'autorizzazione è in questo. L'accreditamento serve a poter cooperare con i soggetti pubblici, l'autorizzazione invece è un provvedimento di natura amministrativa che serve a svolgere quei servizi che ho elencato prima, la somministrazione, l'intermediazione, la ricerca e selezione del personale e l'outplacement, in maniera autonoma, come semplici operatori di mercato che non hanno bisogno di cooperare con il soggetto pubblico ma che appunto operano in un contesto concorrenziale. Grazie a tutti!